I 20 studenti, più meritevoli tra quelli del quarto anno delle scuole superiori d'Abruzzo, sono stati selezionati per partecipare al Campus Ora, ovvero d'orientamento in Abruzzo, dal 22 al 24 agosto. La manifestazione, ormai giunta alla quarta edizione, è organizzata dall'Associazione No Profit dei residenti d'Abruzzo nel mondo e quest'anno si è tenuta a fattoria a Cerreto, nel panorama bucolico di Mosciano Sant'Angelo. È un'occasione che si rinnova per i 20 migliori studenti d'Abruzzo, l'idea nasce quattro anni fa con l'obiettivo di coltivare talenti, di promuovere il merito del territorio e soprattutto di orientare questi talentosi ragazzi verso una scelta più consapevole del loro futuro e delle decisioni che verranno. I ragazzi, che provengono sia da licei che da istituti tecnici, ma comunati dai brillanti risultati scolastici, hanno qui l'occasione di confrontarsi con professionisti di spicco della nostra regione. Questo per aprire uno scorcio sul mondo del lavoro e per iniziare a farsi un'idea, poco prima dell'avvio dell'ultimo anno delle superiori, su che percorso intraprendere dopo il diploma, che sia lavorativo oppure accademico. Noi chiediamo ai dirigenti di tutte le scuole superiori d'Abruzzo di candidare i tre studenti più meritevoli. C'è poi una commissione composta da membri interni ed esterni all'associazione che organizza il campus, che seleziona i migliori venti. Numerosi laboratori in questa tre giorni di attività. Quest'oggi è salita in cattedra l'imprenditrice Francesca Verrini. Un grandissimo piacere partecipare a queste iniziative, perché i giovani sono il nostro futuro e comunque hanno bisogno di ascoltare qualche esperienza pratica di lavoro sul campo. Nel caso specifico io ho parlato della mia azienda, ma soprattutto ho voluto parlare del Made in Italy, che è uno degli argomenti che mi stanno più a cuore, cioè il vero Made in Italy, materia prima italiana lavorata in Italia. Si vede che sono studenti di alta qualità, si vede che sono ragazzi interessati, quindi è piacevole quando anche con una certa differenza di età si interagisce con elementi fluide, fresche e vivaci.